ciao amici oggi devo darvi un annuncio importante anche se sofferto basta con youtube chiudo il canale ma come così senza dirmi nulla il canale è mio e ne faccio quello che voglio io lo chiudo e vado alle bahamas a rilassarmi un po dopo tanto lavoro me lo merito dopo più di mille video o no no scusa il canale è anche mio e degli amici trendy e sani e di squaletto a proposito squaletto dove sei simona impazzita no non sono impazzita è un pesce d'aprile anzi uno squaletto d'aprile l'idea è sua lui ama gli scherzi mannaggia voi due scherzosetti quindi non chiudi il canale non ci penso proprio amo fare i miei video mi diverto e questo canale ha una mission importante deve contagiare sempre più persone a vivere in modo trendy e sano anche se la nostra è una battaglia quotidiana anche contro youtube stesso che non reputa abbastanza popolari questi argomenti e non li fa vedere come fa invece con le ultime notizie su qualche vip scusate ma per voi è più importante sapere come stare bene o sapere che kendall jenner in realtà non voleva fare il reality con kim kardashian per favore scrivetemelo nel sondaggio perché lo voglio sapere ma non scrivetemi quello che pensate che io mi voglia sentir dire tanto è anonimo voglio sapere cosa ne pensate davvero siate sinceri cosa penso io l'ho detto cosa pensate voi ditelo per chiudere piccola nota finale vivere trendy e sani non è uno stile privativo come gente di vecchia mentalità pensa anzi aiuta a godersi la vita al meglio al meglio della salute delle energie delle emozioni delle relazioni al meglio dell'ambiente che ci circonda e che ci deve sostenere ancora a lungo si spera questi sono i miei argomenti forti se vi piacciono mettete un bel mi piace a questo video e anche oggi primo aprile iscrivetevi attivate le notifiche e condividete e se volete partecipare insieme a me a questa missione abbonatevi ogni piccolo contributo da parte di ciascuno di voi può fare una grande differenza per l'intero canale insieme si vince da soli no allora amici buon pesce d'aprile e buona primavera a tutti ciao ciao